Comunque è andata malissimo questa volta, è andata male, non è venuto nessuno, tutti scontenti, tutti scontenti, tutti che si lamentano, non ha investito in pubblicità quest'anno, ma gli andi che mi voleva picchiare, tutti scontenti, guarda pure loro sono scontenti, soprattutto loro. Senti dai, vabbè, gran successo, veramente, cioè, oltre ogni aspettativa per quanto mi riguarda, perché noi eravamo in trincea, come molti altri. Ah, tu eri sopra al primo piano? Sì, diciamo che mi sono tirato un po' di nemicizie da Axiomedia e da M2Tech, soprattutto. Ah sì? È colpa tua che ci hai messo un po' troppo vicini. Ah, porca, va, è sempre la colpa dell'organizzazione, guardate, caro. Io devo decidermi di venire qua a fare l'espositore e basta. No, tu devi cambiare la hotella, caro mio, perché c'è troppa gente, c'è troppa gente. Dico bene? Benissimo. Questa storia degli hotelli, guarda che non è semplice, eh? Cioè, da ieri e oggi, mi ha chiuso anche più di qualche d'uno, eh? Cosa fare degli aumenti, aumenti tariffe, energie, mazzi, mazzi. Sì, è vero, però dobbiamo resistere, dobbiamo resistere. Ah, per carità. E tra quattro settimane? Siamo a fare lo show Meneghino. Milano iFidelity, 49esima edizione. Ok. 49esima edizione. Poi, anticipo che ci sarà l'1-2 aprile. Prego, prego. Vieni, vieni. Ma se passi non ha nessun problema. 1-2 aprile ci sarà la cinquantesima rassegna totale. Ah. A Milano. Ah. La cinquantesima che organizziamo. Quindi una, diciamo, una rassegna importante in quel caso. Eh, vediamo di combinare qualcosa, la cinquantesima, vediamo di combinare. Ok. Qua, il mese prossimo, gira la voce che mi vogliono tirare giù un nome importante, non me l'hanno ancora confermato. Diciamo che il numero uno di quella casa, che è casa discografica, mi vuole portare giù questo nome per presentare in anteprima il loro CD, DVD, incisione e via dicendo. Bene. Vediamo un attimino se c'è. Noi ci saremo. Ecco. Anche io ci sono, quella ragazza. Ok, grazie Stefano. Ciao. Allora ci vediamo a Milano. Ciao. 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 Ciao.